Agendi del commissariato di Adrano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un'adranita di 25 anni. Lo rende noto un comunicato stampa della questura etnea. Il provvedimento è stato adottato dall'autorità giudiziaria a seguito delle segnalazioni dei poliziotti circa le ripetute violazioni delle prescrizioni della misura degli arresti domiciliari a cui il giovane era già sottoposto. Infatti l'arrestato che annovera pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio nell'anno 2023 venne colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Successivamente venne scarcerato e posto agli arresti domiciliari. Da quel momento il 25enne si è reso responsabile di ripetute violazioni della misura, reati puntualmente perseguiti dal personale del commissariato Adranita che in un'occasione lo ha anche tratto in arresto. Una volta scarcerato il giovane è stato agli arresti domiciliari, questa volta con l'applicazione del braccialetto elettronico, ma anche in questo caso dimostrandosi refrattario a ogni regola ha iniziato con ulteriori violazioni della misura. Pertanto i poliziotti del commissariato lo hanno debitamente segnalato all'autorità giudiziaria che quindi si è determinata disponendo la custodia cautelare in carcere. Espletate le formalità di rito, gli agendi lo hanno associato presso la casa circondariale di Catania, Piazza Lanza.